La bandiera di quattro mori a fianco del tricolore, trattori, un recinto con pecore e agnelli e soprattutto tante tante tanniche di latte. Anche a Pergola è arrivata la protesta dei pastori ed agricoltori sardi per il prezzo troppo basso del latte, ma anche per altri prodotti come l'agnello ed in difesa del Made in Italy. Questo è il cuore del sit-in tenutosi martedì sera davanti al Palazzo Comunale, organizzato dall'amministrazione comunale insieme alla comunità di pastori sardi insediati a Pergola ormai da decenni. Con loro tanti cittadini, circa 300, rilevante anche la presenza dei produttori di origine sarda della provincia pesarese impegnati nei settori dell'allevamento e dell'agricoltura in tutto circa 40 aziende. A Pergola ne sono arrivati una trentina, da Urbino, Arcevia, Calcinelli, Montelabate. Con loro anche i vertici dell'Associazione Culturale Sarda di Pesaro e della Federazione Associazioni Sarde d'Italia. Un'azione per schierarsi apertamente con i pastori sardi, con chi lavora e sostiene il territorio, economia, cultura e turismo, come recita anche lo striscione. Ieri nel nostro sit-in, nella nostra manifestazione, abbiamo convolto proprio i pastori sardi. Sotto un unico grido. Io sto, noi stiamo con i pastori sardi e gli allevatori del nostro territorio. Un sit-in anche contro quella grande distribuzione organizzata, quelle multinazionali che vogliono secondo gli organizzatori approfittarsi dei nostri pastori contro un modello di Europa che non sentono rappresentativo e che non tutela l'alta qualità del Made in Italy. A causa di una concorrenza sleale, come spesso avviene nei confronti dell'Italia, dai paesi dell'Unione Europea o Estra Unione Europea che non rispettano le regole e ci invadono con i loro prodotti di scarsa qualità rispetto ai prodotti italiani. È ora di dire basta. La politica si svegli perché questa non è l'Europa che vogliamo. Ma la guerra del latte è lunga da finire e quindi il vicepresidente del Lanci farà sentire il suo sostegno ai produttori direttamente nella loro terra d'origine. Io venerdì personalmente partirò e andrò in Sardegna, in questo mio giro andrò a trovare e esprimere la nostra solidarietà e il nostro sostegno agli allevatori sardi e alla loro lotta che nell'ambito delle regole civili di convivenza deve essere sostenuta perché hanno davvero ragione. Dalla Sardegna deve ripartire la riscossa della nostra nazione. Grazie. 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 Grazie.